E rieccoci insieme, allora, sono le 8 e 11 minuti di martedì 26 settembre, lo abbiamo annunciato dall'inizio della puntata in lungo e in largo perché è un appuntamento importantissimo e che soprattutto dà lustro alla nostra città, alla nostra regione. Parliamo di un appuntamento che esiterà il prossimo venerdì a partire dalle 18 all'interno del Teatro Cursa al Santa Lucia, la Notte Europea dei Ricercatori. Ne parliamo questa mattina, vi presento l'ospite qui seduto accanto a me con il direttore scientifico dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II Raffaella Massafra, ben trovata. Buongiorno a tutti, ciao Serena, buongiorno a tutti i telespettatori, è veramente un piacere essere qui con voi. È un piacere per noi averla qui. E soprattutto parlare di un tema che mi sta morto al cuore, quindi la ricerca sul cancro, gli sviluppi nel nostro istituto e soprattutto della Notte Europea dei Ricercatori che verrà svolto, un evento che verrà svolto il prossimo 29 settembre alle ore 19 presso il meraviglioso scenario del Teatro Cursa al Santa Lucia. Un evento fortemente voluto dal nostro direttore generale, l'avvocato delle donne, proprio per celebrare i ricercatori. È una serata per celebrare il loro impegno, quello che hanno fatto e che continuano a fare con grande abnegazione. Quindi sono veramente contenta che si possa attuare questo evento. Lo facciamo anche noi, anche perché noi sentiamo spesso parlare di ricercatori, questo diventa anche un momento per approfondire, per capire chi sono e cosa fanno i ricercatori in campo oncologico. Ma prima soffermiamoci sull'evento, state guardando intanto in diretta la Locandina, Notte Europea dei Ricercatori, lo ricordiamo, venerdì prossimo all'interno del Teatro Cursa al Santa Lucia. Come si svolgerà questa serata che avrà degli ospiti veramente illustri? Assolutamente sì. La serata sarà proiettata all'insegna di quella che è la divulgazione scientifica con ospiti di alta elevatura. Avremo la dottoressa Ilaria Capua, che è una virologa di fama internazionale, ha vissuto per sei anni in Florida, aumentando quello che è il suo background culturale, poi è tornata in Italia. Ci parlerà di un approccio assolutamente nuovo alla ricerca, ci parla di un approccio olistico, il paziente integrato in quello che è l'ambiente. Avremo anche come ospite il professor Cecchi Paone, grande divulgatore scientifico che ci ha fatto amare tanto, ci ha fatto avvicinare. Per quelli della nostra generazione, ricordo con la macchina del tempo, dal 1997 al 2006, ha fatto avvicinare al mondo della ricerca. E lui terrà un talk molto importante su quella che è la politica della salute con dei protagonisti politici del territorio, nazionali, dell'ambito accademico e anche giornalisti. Per quindi sarà un momento importante, non mancheranno degli eventi musicali a cura del Conservatorio Niccolò Piccini e poi tante belle sorprese che verranno egregiamente portate sul palco dal nostro Mauro Pulpito. Che non ha bisogno di presentazioni, il grande Mauro. Il grandissimo Mauro, ma soprattutto lui con grande passione ha spotato quella che è la nostra causa, regalandoci la sua presenza e la sua professionalità. Allora, io intanto non ho ancora ricordato i numeri per intervenire in diretta. 080 501 4668 per le vostre telefonate e 9998 per i vostri whatsapp e whatsapp audio. Prima di procedere nella nostra discussione, mentre lei parlava, mi è venuto in mente questo lavoro dell'Istituto Tumori, da qualche anno a questa parte, che è quello proprio di parlare, raccontare, divulgare. Quanto è importante parlare di questi temi? È fondamentale, è fondamentale parlare di questi temi perché noi abbiamo l'obbligo di avvicinare i giovani alla ricerca, perché i giovani ormai sono appunto il nostro futuro. Ci sono tanti pregiudizi adesso legati ai giovani. Si parla di giovani che non hanno i valori. Io invece sono, diciamo, dell'idea assolutamente contraria. I giovani hanno grandi valori legati all'impegno, alla giustizia sociale, credono molto nella scienza. Ci sono degli studi che, anche post pandemia, loro adesso riversano tanto, ovviamente, interesse nella scienza e abbiamo bisogno di loro, perché loro ci mettono anche in discussione ed è importante anche quello. Quindi bisogna, tra l'altro, i ricercatori italiani sono secondi soltanto ai ricercatori tedeschi. L'unica differenza è che in Germania si investe dieci volte di più rispetto a quello che si investe in Italia in ricerca e di istruzione. Per cui... Quando ovviamente è un tema centrale, sì, che magari riprenderemo più tardi. Dicevamo comunque della divulgazione, dell'importanza del parlarne, che serve anche poi ad allontanare quelle che sono le paure. Questi sono temi di cui tutti abbiamo paura, fanno parte dei nostri timori più reconditi. Invece parlarne ogni giorno, noi per primi con voi cerchiamo di parlarne il più spesso possibile. Quindi davvero un grande grazie questa mattina da Telebari. Ma torniamo all'evento perché c'è un'altra novità, perché quest'anno il vostro istituto per la prima volta partecipa. Spero di pronunciarlo bene, Allern 2023, che è un evento che si svolgerà in contemporanea in tutta Europa. Allora, leggo per non dimenticarmi niente. Parliamo della Notte dei ricercatori e delle ricercatrici, che si svolgerà venerdì 29 settembre, a partire dalle 11 e fino alle 23, nell'atrio Cherubini del campus universitario Quagliariello, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari, Libera Università Mediterranea De Gennaro, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il patrocinio del Comune di Bari. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un appuntamento assolutamente strategico, perché per fare scienza bisogna fare rete. Dobbiamo insegnare anche questo ai nostri giovani, e quindi invitiamo tutti gli studenti a partecipare, quindi con l'INFN, il CNR, ci saremo anche noi, con uno stand dove ci saranno degli esperienze laboratoriali interattive, quindi parliamo di cellule, tessuti, intelligenza artificiale, attraverso l'utilizzo di microscopi, di computer, e per vivere quella che è l'esperienza di un laboratorio biomedico. Non mancheranno anche dei talk di divulgazione, per la prevenzione sul fumo, l'analisi del respiro, anche la ricerca sull'oncofertilità, che è un tema fondamentale, molto importante. La biobanca, vista come una prospettura, è un'opportunità per la cittadinanza, e poi delle parole di scienza legate alla riprogrammazione e al codice. Ma non vi svelo altro, perché spero che tanti studenti possano partecipare al nostro evento. Io farei un passo indietro e tornerei ovviamente al tema centrale della ricerca. Lei poco fa ha giustamente parlato della differenza, tra virgolette, e tra il modo di considerare la ricerca in altri paesi rispetto all'Italia, anche se qui, devo dire, comunque le cose stanno più o meno cambiando. Però, direttore, quello che le chiedo è cosa può fare la differenza per aumentare l'importanza della ricerca. L'ho detto prima, la differenza indubbiamente lo fa l'investire. Quindi, diciamo, dobbiamo rivolgersi a quelle che sono le istituzioni. Bisogna, sicuramente, investire molto di più nella ricerca e avere fiducia nei giovani. Ed essere attenti a sviluppare le linee di ricerca più attuali. Adesso stiamo vivendo un momento fondamentale per la ricerca sul cancro. Questo lo voglio dire a gran voce per i pazienti. Adesso ci sono delle grandissime novità in ambito oncologico che, insomma, se vuole le posso raccontare anche... Assolutamente sì, assolutamente sì. ...per dare fiducia ai nostri pazienti. Adesso si parla di medicina di precisione. È una medicina legata proprio al disegno, proprio detta nei minimi termini, in maniera in parole povere, si disegna la terapia intorno a ciascun paziente. Non è più, non abbiamo più un approccio tradizionale, quindi dare la stessa terapia oncologica per gli stessi tipi di tumori. L'assetto molecolare del paziente è differente, interagisce in maniera differente con quello che è l'ambiente e per cui, grazie a questa modalità, a questi farmaci che vengono chiamati farmaci target, abbiamo avuto un aumento, un incremento della sopravvivenza importantissimo. E questo va detto, va detto ai pazienti, in patologie come per esempio l'adenocarcinoma polmonare, quello delle vie biliari, la mammella, il polmone. Tra l'altro, diciamo, fino a poco tempo fa, questi farmaci target sono stati utilizzati in fase avanzata di malattia. Adesso si stanno studiando dei farmaci per l'early stage, in fase precoce. Quindi, veramente, grazie alla ricerca, a questa innovazione, allo studio molecolare dei pazienti, stiamo avendo delle grandissime, una rivoluzione assoluta che è presente soprattutto in quelli che sono gli istituti di ricerca. Perché è ovvio che per fare questo abbiamo bisogno di strumentazione all'avanguardia. Tra l'altro, vi abbiamo spiegato in sintesi l'importanza della ricerca in campo oncologico. Quello che mi piace moltissimo, ne abbiamo parlato anche con i suoi colleghi che l'hanno preceduta in questo studio e anche la cura da un punto di vista psicologico che voi avete del paziente. Sì, sì. Nel nostro istituto ci sono delle grandissime, bravissime psiconcologhe. L'attenzione al paziente va vista a 360 gradi, assolutamente. Quindi dalla presa in carico, quindi adesso abbiamo anche il cuoro che prende in carico il paziente dall'inizio per tutto il percorso e anche per la fase psicologica. Questo è fondamentale. Il paziente ha bisogno di essere presi in cura. Non soltanto il paziente, ma anche il caregiver. Assolutamente. La famiglia è importantissima, il caregiver ovviamente in particolare. Sono momenti difficili che vanno affrontati tutti insieme. Insomma, abbiamo imparato in questo percorso che stiamo facendo con voi quanto sia importante avere qualcuno che si occupa anche di quella sfera. Abbiamo parlato, vi abbiamo spiegato un po' chi è il ricercatore oncologico. Abbiamo parlato però contestualmente anche dell'apportanza di ulteriori investimenti. Dove si potrebbe ancora arrivare, dottoressa? Sì, gli investimenti non sono mai troppi. Assolutamente. Quello che è legato all'istituto di ricerca è investire in grant, quindi portare a casa dei finanziamenti grazie proprio alla ricerca scientifica. E con questi finanziamenti bisogna essere sempre al passo, progredire attraverso l'utilizzo di strumentazioni di altissima precisione, quindi bisogna investire in quello. Bisogna avere un parco macchine, delle strumentazioni sempre all'avanguardia per essere al passo con la ricerca scientifica, soprattutto nella ricerca contro il cancro. Noi lo abbiamo fatto in maniera egregia grazie proprio all'apporto scientifico dei nostri ricercatori. Lo scorso anno hanno pubblicato tantissimo, più di 220 pubblicazioni, con alto si chiama Impact Factor. È un indice della bontà di quelle che sono le nostre pubblicazioni scientifiche, quindi ancora grazie ai nostri ricercatori. E grazie appunto a queste, alle pubblicazioni e tanto altro, ci ritornano nell'istituto di ricerca dei finanziamenti importanti che noi investiamo per poter appunto anche diciamo fare rete con cordate nazionali e internazionali. Questo è importante, l'ho detto in anticipo, perché è fondamentale adesso condividere, scelare tutte quelle che sono le competenze, non soltanto tecnologiche, ma anche scientifiche. Noi abbiamo applicato a tanti bandi PNRR, li abbiamo portati a casa nuove, e questo ci ha permesso di entrare in connessione con i più importanti istituti di ricerca italiani e anche internazionali e che quindi ci hanno portato a sviluppare delle linee di ricerca molto interessanti. Vi ricordo ancora il numero per intervenire in diretta, 080 501 4668 per le vostre telefonate, 9998 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Siamo in dirittura d'arrivo, mancano pochi minuti alla chiusura di questo spazio. Lo abbiamo già in qualche modo accennato, ma vogliamo specificare ancora meglio quali sono le attività di ricerca in cui siete in qualche modo specializzati? Sì, siamo specializzati in diverse attività di ricerca, per esempio l'identificazione di nuovi biomarcatori per la prognosi, la diagnosi e la terapia con farmaci target, appunto ne parlavo prima, questi farmaci proprio che vanno ad incidere su quella che è appunto una patologia particolare oncologica, lo studio di virus nella eziopatogenesi dei tumori, ovvero appunto come un virus si può trasformare in tumore. Questa è una linea di ricerca, ci tengo a specificarlo, che ha portato nel nostro istituto il carissimo dottor, professor Tommasino, che è il nostro ex direttore scientifico, che è scomparso purtroppo lo scorso dicembre, ma ha lasciato, va bene, un'importante eredità, un'importantissima eredità, soprattutto dal punto di vista dell'umanità e dell'umiltà, che è fondamentale nel campo della ricerca. Una domanda, noi siamo praticamente in chiusura, quale messaggio lei vorrebbe far passare ai giovani che magari vogliono approcciarsi a questo tipo di carriera? Allora, il massaggio più importante che vorrei passasse ai giovani studenti e ai giovani ricercatori è quello che bisogna saper raccontare la scienza. È importantissimo fare quello che noi ricercatori chiamiamo dissemination, cioè noi dobbiamo raccontare le sfide e le ricerche con un linguaggio semplicissimo. Non ci dobbiamo arrendere dinanzi a quelle che sono le sconfitte, perché poi alla fine nella ricerca nulla è una sconfitta e bisogna raccontare anche le sconfitte stesse al mondo, perché portano assolutamente anche queste a un progresso. Inoltre sono sempre ormai più protagonisti i giovani nella ricerca e tutti noi ricercatori abbiamo, soprattutto in ambito oncologico, un obiettivo molto importante che dobbiamo portare a termine e che diventa alla fine come un obbligo morale, obbligo visto con un'accezione positiva del termine, cioè proprio quella di rendere il cancro sempre più curabile, ovviamente portando avanti quelli che sono i progetti più innovativi scientifici con passione ed edizione. Mi interessa molto un passaggio di quello che ha detto, insomma una sorta di sfida che voi state portando avanti, che è quella di comunicare nel modo più semplice possibile dei temi che altrimenti sono vissi come molto molto tecnici. Allora io riparto da dove siamo partiti, dunque la Notte Europea dei Ricercatori è aperto a tutte le persone, insomma non bisogna neanche avere un po' paura di affrontare questi temi, perché in realtà saranno spiegati in maniera semplice, accessibile. Ti ringrazio per aver puntato l'attenzione su questo. La Notte dei Ricercatori del prossimo 29 settembre, lo ricordo a tutti i telespettatori alle ore 18 presso il Cursa Santa Lucia, sarà un momento di divulgazione spicciolo per dire, non voglio appunto... No, no, è chiarissimo. Mi piace sottolineare che appunto per divulgare la scienza bisogna essere semplice, noi lo faremo in questo modo, appunto affinché arrivi dove deve arrivare, ai giovani, agli adulti, ai pazienti e a noi stessi. Quindi il mantra potrebbe essere accorciamo le distanze. Assolutamente sì. Grazie, grazie a Raffaella Massafra, direttore scientifico dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II per essere stata con noi, grazie mille. Grazie a tutti, grazie Serena. Noi ci fermiamo, qualche istante di pausa, mi raccomando non andate via, perché torniamo subito con altre notizie.